brevissimo video volevo augurare a tutti quanti voi un meraviglioso natale tanta pace e tanta serenità a tutti quanti voi io mi sto iniziando adesso a preparare la cena della vigilia sto facendo diciamo una salsina per i gamberoni e niente vi ringrazio di cuore per gli auguri per l'affetto che mi dimostrate non rispondo sempre a tutti i vostri messaggi perché tante volte non guardo il telefonino però vi penso sempre e con questo brevissimo messaggio vi faccio veramente tanti 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 auguri di cuore a tutti quanti un bacione ragazzi ciao alla prossima